ciao a tutti ragazzi oggi voglio farvi vedere l'altro ambo su napoli diverso da quelle da quello che ho fatto prima su monster dog però sempre un ambo però stavolta in quartina un po meglio nel mio sistema lotto in quartina che è questo poi non c'è il titolo quasi in quartina però comunque c'è qui qui sopra potete vedere e andiamo subito a digitare sempre su napoli la estrazione precedente che era quella del 27 per quella del 29 di stasera è dato un altro ambo diverso cioè quasi diverso per un numero da quell'altro se avessimo avuto se avessimo aggiunto questo numero sarebbe stato terno però ovviamente non potevamo saperlo allora digitiamo subito su napoli guardate i numeri verdi come cambiano così vi faccio vedere che non c'è trucco inganno non ci sono cose che non farei mai queste cose qui quindi allora napoli digitiamo la precedente 5 32 guardate i numeri verdi come si trasformano si cambiano 43 e 31 invio allora napoli uscito allora con il monster dog era uscito 72 20 mentre qui è uscito 72 e 43 43 l'aveva già dato napoli la volta precedente ma è riuscito e anche su palermo qui comunque qui su napoli 72 43 70 43 e 72 il 74 non l'ho dato peccato e l'83 niente lato il 23 43 come nell'altro perché sono più o meno programmi simili solo che magari c'è l'aggiunta di qualche numero un po diverso in alcuni programmi e niente volevo farvi vedere questa cosa comunque qui su quattro numeri lambo con con un euro paga sui 39 euro quindi mettendoci cinque euro penso che siano quasi 200 euro e niente volevo farvi vedere questo mio programma qui non vedete il titolo ambo il sistema lotto in quartina che avevo fatto un po di tempo fa solo che non riesco a fare le verifiche di programmi perché sono città i 300 milioni di anni a fare 600 mila video non ce la faccio e niente voglio farvi vedere questo ambo se nel frattempo scopro qualcos'altro di altri programmi di controllo e farò altri video per adesso è tutto ci sentiamo nel prossimo video mi raccomando iscrivetevi cliccate sul like se volete e acquistate i miei programmi vi lascio tutti i link sotto dei miei programmi per adesso è tutto ci sentiamo i prossimi video ciao a tutti grazie